Ok, centrifuga rapida, modalità ecologica, temperatura, e ci siamo. Forse no, ma andrà bene così. Beh, alla fine non è stato poi così difficile, alla faccia di Crep. Ehi, Crep, senti? Non parlare, ti avevo detto di non provare ad usare la lavatrice. È accaduto tutto così velocemente, cioè può capitare. Hai distrutto tre lavatrici nell'ultimo mese, svergognato! Crep, che belli nuovi guanti. Quindi, niente vestiti? Bene, allora mentre Crep ripara danni, io vado a caccia. Aspetta, da quand'è che vai a caccia? Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare Mamuto! Ah! Ciao